Cosa pensi tu sui problemi della tecnologia che suscita questo tema delle tecnologie nuove usate per mettere in questione la verità o per distoglierci da un accesso razionale al mondo dove il vero e il falso si possono distinguere? Grazie professore di questa domanda perché in effetti penso che stiamo toccando uno dei punti chiave della questione. Brodillard, un famoso statistico, diceva che le statistiche sono una forma di realizzazione del desiderio, proprio come i sogni. E allora penso che non possiamo semplicemente parlare di dati ma dobbiamo parlare sempre di dati e di interpretazioni. Ricordo una famosa vignetta che circolava negli ambienti polemici nei confronti dell'ambientalismo americano in cui si diceva che gli ambientalisti erano un po' come le angurie verdi fuori e rossi dentro instaurando un pochino il sospetto che in fondo c'era un'ideologia dietro ad alcune affermazioni. E questo un po' è vero cioè nel senso che nessuno di noi è neutrale rispetto ai dati ha una sua narrazione dei dati che nasce da quello che ha vissuto e lo orienta sulle scelte che si trova davanti. Questo è vero sui dati ma è vero anche sulla tecnologia. Quello che ci troviamo di fronte oggi è l'idea che la nostra esistenza sulla Terra non è un'esistenza neutrale ma è un'esistenza mediata da degli artefatti tecnologici. E un artefatto tecnologico è un modo quindi con cui noi comprendiamo la realtà e con cui interveniamo sulla realtà. Pensiamo a Nobel. Nobel ha visto i minatori morire in miniera e ha cercato un modo per stabilizzare la nitroglicerina. È inventato il TNT. Ora, il TNT è passato da essere uno strumento per salvare delle vite come quello che aveva sognato Nobel nell'unità di misura delle bombe che utilizziamo in guerra cioè nel dire la capacità che abbiamo di annientare altre vite e altre civiltà. Tant'è vero che la bomba atomica si misura in megatoni cioè milioni di tonnellate di TNT equivalenti. E forse questo è il punto che la tecnologia non è univoca. Allora, secondo lei, il problema è proprio la tecnologia? Il problema, direi, è chi c'è dall'altra parte del manico rispetto alla tecnologia. Il problema è quell'interfaccia umana che lega la tecnologia al suo impatto sulla società. È evidente che noi conosciamo l'esistenza di alcuni ecoestremisti. Ci sono delle comunità hippie che cercano di vivere con una simbiosi rispetto alla natura senza nulla di artificiale. Ma è artificiale l'idea stessa di vita che hanno. Perché se noi guardiamo la storia dell'uomo sulla Terra non esistono ritrovamenti di accampamenti umani dall'esistenza dell'uomo sulla Terra ad oggi che non siano identificabili per il ritrovamento di qualche artefatto tecnologico. Fosse anche per il modo che questi avevano di seppellire i loro cadaveri che non è naturale nel senso di non spontaneo. Allora dobbiamo dire che sì, esistono delle ideologie che orientano la nostra comprensione dell'ecologia e la nostra comprensione della tecnologia nei confronti dell'ecologia. Se è vero, come ci ha detto poc'anzi, che la tecnologia è un problema per l'equilibrio ecologico oggi è anche vero che è difficile, secondo me, pensare una soluzione che non sia tecnologica a questo problema. Anche perché inevitabilmente metteremmo sul piatto della bilancia la capacità di sussistenza di milioni di individui. Perché se oggi possiamo dar da mangiare a tante persone è per la tecnologia che abbiamo. Un dato molto interessante, se vogliamo rimanere nella provocazione di come i dati possono essere ambigui, è il fatto che oggi ci troviamo per la prima volta di fronte all'evidenza che è più facile morire per il diabete sul nostro pianeta che non per una carestia di fame. E allora l'idea che la tecnologia ci abbia messo di fronte la capacità di sconfiggere un problema come quello della fame, ma abbia creato un altro problema come quello di avvelenare noi stessi per l'eccessiva quantità di zucchero è un'altra di queste dinamiche che ci dicono come la tecnologia non è univoca, come la tecnologia vada interpretata, come la tecnologia vada letta. E questa cosa ci dice che il vero problema è la relazione tra l'uomo e lo strumento. E la relazione tra l'uomo e lo strumento non dipende semplicemente dall'oggettività dei fatti, ma delle idee che formano la personalità, le convinzioni e le credenze della persona. Io credo che questa enciclica si schiera anche sul tema tecnologico, dunque sul problema che può causare la tecnica che abbiamo già accennato prima. e quindi volevo chiedere a lei in che senso si schiera l'enciclica, questo è il suo campo di ricerca, in che campo si schiera sul tema della tecnologia, della tecnica? Rispondere a questa domanda richiede di farsi un'altra domanda. Come, in che maniera la fede ci può aiutare a capire qualcosa del fenomeno tecnologico? Per rispondere a questo io proporrei di iniziare facendo un'analisi dell'esistenza storica dell'uomo sulla Terra. I reperti archeologici, gli studi antropologici, ci dicono che l'uomo è stato su questa Terra già da circa 100-150 mila anni. Eppur tuttavia ha assunto un ruolo secondario all'interno delle dinamiche di quello che succedeva sulla Terra fino a 70 mila anni fa. Cosa è successo 70 mila anni fa? Beh, da 70 mila anni a questa parte i ritrovamenti archeologici ci dicono che c'è un'unicità per l'esistenza umana rispetto alle altre specie biologiche che esistono sulla Terra. Se i resti fossili e i resti archeologici ci dicono che, per esempio, vi è stato un possibile adattamento di alcune specie di mammiferi a climi diversi, questo adattamento è legato al fatto che alcune specie avevano nel loro DNA, nella loro espressione genetica, alcune varianti che gli consentivano di rimesmanere o di sopravvivere a quelle variazioni. Per cui alcune specie di grandi mammiferi, come alcune specie di elefanti, per esempio, grazie a un pelo più sviluppato sono potute sopravvivere a climi più freddi o grazie alla mancanza di pelo sono potute adattarsi a climi africani più caldi e dare luogo così per esempio all'elefante indiano o all'elefante africano. Per l'uomo non è così. 70.000 anni fa è successo qualcosa di straordinario. La razza umana appartenente all'Homo sapiens si è addilagato su tutto il pianeta terrestre, andando ad abitare dalle zone più calde dell'Africa fino alle zone siberiane, passando lo stretto di Bering arrivando nel nord e nel sud America, riuscendo a navigare e ad attraversare così la distanza che c'era tra l'ultimo pezzo di terra dell'Asia e il megacontinente australiano. Com'è stato possibile? Bene, l'uomo, l'Homo sapiens, evidentemente, la specie di cui stiamo parlando, a differenza di tutti gli altri esseri biologici, ha iniziato a passare le sue consapevolezze e conoscenze sulla realtà e la sua capacità di adattamento rispetto alla realtà, non più attraverso i geni e il DNA, ma attraverso la cultura. È successo per l'uomo una cosa che potremmo definire una rivoluzione cognitiva. Cioè, ogni generazione passava alla generazione seguente la sua capacità di stare al mondo mediante una comprensione che non era genetica e biologica, ma mediante una comprensione culturale. Questo, di fatto, avviene mediante la costruzione di degli artefatti tecnologici. Oggi noi passiamo le nostre conoscenze mediante i libri, mediante l'informatica, mediante la cultura. Ma un libro è un artefatto tecnologico. Così, quando i nostri predecessori si sono spostati dall'Africa fino alla Siberia, sono sopravvissuti in Siberia, non perché quella era una specie umana che avesse un lungo pelo che li proteggeva dal freddo. Ma perché quella specie, quella generazione di uomini ha spiegato alla generazione seguente degli uomini che si poteva sopravvivere al freddo grazie alle pellicce dei mammut con cui farsi dei caldi vestiti. E allora ecco che noi, guardando questa prospettiva storica, scopriamo che il modo di stare al mondo dell'uomo è un modo che non è fatto di sola natura, ma è fatto di natura e cultura. Questa è l'antropologia a cui dobbiamo guardare. Qui la fede c'ha un unicum da dirci. E questa antropologia è fatta di artefatti tecnologici. Allora la condizione dell'uomo sulla Terra è una condizione tecno-umana, dove quel tecno non è una tecnologia che da fuori cambia l'uomo, ma è un uomo che cambia se stesso e la realtà mediante la sua capacità di leggere la realtà, di interpretare la realtà, di trasmettere mediante artefatti da lui costruiti informazioni alle generazioni che seguono. Quindi l'artefatto nel nostro essere nel mondo è qualcosa di ineliminabile. La mia domanda a questo punto è questa, cioè quando leggiamo un po' il testo di Laudato Si, c'è una certa critica, a volte anche dura, della tecnica. Com'è riconciliare questa lettura della tecnica con quello che ha appena detto? Andando ad aprire che cos'è l'artefatto tecnologico. Chiaro che se noi consideriamo l'artefatto tecnologico come una black box, come una scatola chiusa che esiste e basta, noi di quell'artefatto non vediamo che magari gli effetti negativi che abbiamo davanti agli occhi. Ma questa comprensione antropologica in cui la comprensione di fede esplicita è una chiave importante per sviluppare un'etica, se vogliamo, della tecnologia che sappia prendersi in carico la complessità del fenomeno di cui parliamo, ci aiuta a vedere l'artefatto in una maniera diversa. L'artefatto tecnologico non è un dato di fatto, non è una cosa che c'è rispetto al quale l'uomo si deve fare solo una domanda, che è quella di quanto di questo artefatto ne posso usare, quanto sarà troppo. Ma possiamo vedere quindi l'artefatto come una sorta di condensato antropologico, come una serie di risposte che l'uomo si è dato a una realtà che lo provoca. Una vanga, quello strumento che utilizziamo per scavare il terreno, non è altro che una risposta che l'uomo si è dato di fronte alla domanda come posso guadagnarmi la sussistenza in un mondo che da solo spontaneamente magari non mi dà quanto di cui ho bisogno per vivere. Ma di contro, la vanga magari è anche lo strumento che Caino ha utilizzato per uccidere Abele. Quindi è anche grondante di quel sangue che è la prevaricazione dell'uomo sull'uomo. Allora, la comprensione della condizione tecno-umana è una sorta di utensile che svita il coperchio dell'artefatto tecnologico e ci mette di fronte a una domanda che è tutta umana, che è tutta etica, che è tutta di significato. Qual è il significato che è posto dietro lo sviluppo, l'uso e l'insieme di usi che questo artefatto ha conosciuto? Allora, la lettura è una lettura che deve mettere in mostra tutte le speranze dei dubbi che l'uomo ha avuto nel leggere la realtà, nello sviluppare artefatti, nell'insieme degli artefatti che sono stati utilizzati nella storia dell'uomo. Quindi, la lettura della tecnologia più che una lettura tecnica è una lettura culturale. È una lettura cioè di quell'ambito pienamente umano che è l'esistenza dell'uomo sulla Terra. Grazie a tutti.